Fai il tuo giuramento, Moren Sedai. Giuro di non dire parola che non sia vera. Di non fare arma con cui un uomo ne uccida un altro. E di non usare mai come arma l'unico potere. Sai che vuol dire A.S. Sedai nella lingua antica? Servitori di tutti. Sono loro a servire il mondo. Non ho scelto questo cammino, ma lo seguirò. Dove andiamo? Ai fiumi gemelli. L'antico sangue scorre profondo su queste montagne. Speriamo che li abbia preparati a ciò che li aspetta. Il tenebroso è quasi sveglio. Ma ci sarà uno che potrà tenergli testa. Ed è uno di voi cinque. Sei completamente impazzita. Non avrete la vita che immaginavate. Moraine. Cosa sono? Le sue orde. Sta arrivando. Cosa facciamo? Proteggiamo quelli che amiamo. A qualunque costo. I nemici sono ovunque. Non si lasceranno nessuno alle spalle. Abbiamo già perso troppe persone. Non posso perderti. Non succederà. Se non fermiamo il tenebroso adesso, il mondo intero brucerà. Non posso permetterlo. la ruota trama come la ruota brama. Pensi che torneremo mai? a casa. No.